Al centro dell'attenzione ai cittadini e non i giochi di potere e questo il messaggio che arriva da Carmine Doronzo di Coalizione Civica in vista delle amministrative di Barletta. L'apertura del PD cittadino e i disaccordi con Ruggero Mennea da un lato, il blocco fedele all'ex sindaco Cosimo Cannito dall'altro. Uno scenario che non soddisfa il consigliere comunale uscente fuori da entrambi gli schieramenti. Stiamo assistendo a grandi manovre politiche che nulla hanno a che fare con i bisogni reali dei cittadini di Barletta. Stiamo vedendo il tentativo di costruire ancora una volta delle grandi ammucchiate politiche prive di valori, prive di ideali dove tutti cercano di accordarsi con tutti pur di ottenere una poltrona. Sembra quasi il mercato della politica. Noi invece stiamo provando a ricostruire un campo, un campo che sia progressista, un campo che metta al centro i programmi. Le elezioni si avvicinano e le priorità sono sostanzialmente due. Il benessere dei cittadini attraverso lavoro e ambiente e l'utilizzo consapevole dei fondi del piano di ripresa e resilienza. Un doppio fronte che Barletta non può permettersi di prendere sotto gamba. Il lavoro in una fase come quella che stiamo vivendo, una fase drammatica a livello globale, a livello nazionale, con le bollette che aumentano, dobbiamo provare a creare nuova occupazione. Ma anche la questione della legalità, un tema molto sentito in città, e poi il PNRR, i fondi europei, che dobbiamo provare a portare nella nostra città attraverso competenze, attraverso visioni. Pensiamo per esempio alla possibilità di dare delle risposte ai problemi ambientali che viviamo, ma soprattutto risposte ai nostri giovani, che non devono più scappare, che devono provare a trovare qui le loro opportunità di crescita e di futuro, magari in un contesto più sano e non più in mano al malaffare e alla criminalità.